Siamo chiamati oggi in Aula al Senato per discutere e confrontarci sul DDL numero 2081, sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. Le mie sembreranno parole dure e potranno suscitare scalpore tra taluni di voi. Non posso però esentarmi da tale compito, perché in questo momento avverto più che mai l'obbligo di assumermi questa responsabilità, da umile credente quale sono. Vorrei leggere in quest'Aula alcune citazioni delle Sacre Scritture. Non voglio perdermi in congiutture, analisi, non voglio filosofeggiare, non voglio dare spiegazioni, ma voglio solo ricordare la parola di Dio sull'incompatibilità della famiglia generata da un uomo e una donna con l'omosessualità. La donna non si vestirà da uomo e l'uomo non si vestirà da donna, poiché il Signore tuo Dio detesta chiunque fa tale cose. E ancora, non ti coricherai con un uomo come si fa con una donna. È cosa abominevole. Non rendetevi impuri con nessuna di tale pratiche, poiché con tutte queste cose si sono rese impure le nazioni, che io sto per scacciare davanti a voi. Maschio e femmina li creò. Li creò per essere una sola carne, per procreare. Così si estende la creazione divina che ha nell'uomo la sua corona. Anche il Nuovo Testamento non cambia direzione al riguardo. Infatti, un passo particolarmente esplicito è estratto dalla prima lettera ai Corinzi. Ma probabilmente la verità più bella e schiacciante che cancella ogni altra tesi è quella che scrive Matteo. Un credente non deve mai dimenticare che Dio non cambia. Voglio solo osservare che, ancora una volta, abbiamo di fronte la scelta tra onerare le nostre radici cristiane, nostre di tutta l'Europa, oppure dimenticarle, in favore di liberalizzazione estreme che rischiano di minare le fondamenta dell'Istituto della Famiglia, senza la quale non saremmo niente. La famiglia, comunione d'amore e di vita, fondata sul patto d'amore del matrimonio, rappresenta una risorsa sociale alla quale non si possono equiparare le unioni di fatto. Pur avendo espresso il mio punto di vista di uomo cristiano, riconosco la necessità di mettere un filo diretto di confronto tra credenti e non credenti, anche e soprattutto sulle materie eticamente discusse. Questo perché la nostra società si è sviluppata nel dialogo, nel reciproco rispetto di tutte le opinioni di volta in volta manifestatesi. Sono convinto che la diversità dei punti di vista debba essere accolta come un elemento positivo per arrivare a decisioni condivise e rispettate da tutti. Tuttavia, quella a cui assistiamo negli ultimi anni è un tentativo di imporre una nuova visione dell'umanità. Quindi non dimentichiamo le nostre origini, la nostra vera natura umana e spirituale. Dio ha voluto che la famiglia fosse composto da padre, madre e figli. Non c'è marito senza moglie, non c'è moglie senza marito e soprattutto non c'è vita senza entrambi i sessi. Ricordando le parole di San Paolo a Timoteo, la fede va testimoniata sempre ed in ogni circostanza. Grazie!